Nella tarda mattinata è uscito il calendario del campionato di serie di Gironè. La Pistoiese debutterà il 1 settembre al Marcello Melani, affrontando la formazione Umbra del Bastia, calcio d'inizio alle ore 15. Subito derby alla seconda giornata contro una delle favorite per la vittoria finale, l'Arezzo in trasferta. Il terzo appuntamento vede arrivare a Pistoia il 15 settembre, il Gualdo-Casa-Castalda, cui fanno seguito la trasferta a Narni e il derby regionale contro lo Scandicci il 6 ottobre. In trasferta il derby contro il Montemurlo il 10 novembre e a Fiesole-Caldine il 24 novembre. Alla quattordicesima giornata spicca il match interno contro la Pianese. Il girone d'andata si conclude il 22 dicembre con la trasferta sul campo di Foligno. Il calendario nella sua ampiezza è stato giudicato positivamente dall'allenatore Massimo Morgia. Il derby con l'Arezzo alla seconda giornata ha detto «Va bene, tutte le partite sono difficili, dipende tutto da noi, dalla nostra concentrazione. Siamo consapevoli del ruolo che ci attende, per cui dovremo farci trovare pronti da tutte le avversarie». Mercoledì la Pistoia conclude la prima fase della preparazione giocando in amichevole ore 16.30 contro il Quarrata sul campo della Palagina di Piavranievole. Dopo questo impegno gli arancioni usufruiranno di due giorni di riposo per ritrovarsi sabato a Pistoia e trasferirsi nel pomeriggio a Porte de Marmi per un altro test amichevole contro la formazione locale. Non ci sarà l'attaccante De Angelis, rimasto infortunato ad un ginocchio nel triangolare. Probabile invece i recuperi di Giordani e Cecchi. Le amichevoli contro Quarrata e Forte de Marmi serviranno all'allenatore Morgia per preparare la sfida secca di Coppa Italia contro la Lucchese in programma al Melani il 25 agosto. Sul fronte del calciomercato non sono previsti i movimenti in entrata. Dopo l'acquisto dell'attaccante Sacca Dall'Empoli e la conferma di Giovanelli, l'organica arancione può dirsi completato.